salve a tutti buon tutto allora volevo parlare in questo video una riflessione sull'epilessia allora io voglio sapere se le persone siano informate oppure no sull'epilessia perché vedo in giro chiedendo in giro parlando con le persone quando vado a fare le passeggiate che praticamente non sanno quasi nulla delle malattie cognitive come l'epilessia dicono si parla sempre di autismo di down però non si approfondisce sull'epilessia e certe volte mi viene detto che sono a sociale che faccio fatica a socializzare che dovrei socializzare con tutte le persone ma non è facile non è facile non so se anche per gli altri epiletici sia così facile socializzare questo non lo so però quello che mi dispiace tanto è proprio che le persone vedono un epilettico oppure un ex epiletico come come un matto un pazzo se non lo vedono come una persona normale sembra che averci avuto l'epilessia sia un male gravissimo per le persone che sia proprio un virus che sia virale che tocca stargli lontano agli epilettici o ex epilettici non è così non è così potete chiedere anche i vostri dottori dottori di base neurologi e soprattutto i neurologi potete chiedere a questi dottori ma un po anche a tutti i dottori potete fargli questa domanda se è una cosa virale oppure no vi diranno che non è una cosa virale non è una malattia virale è una malattia che si guarisce con lo sviluppo se si prende da piccoli si guarisce si guarisce anche se rimangono delle tracce poi perché non è che si può guarire totalmente rimangono delle tracce e poi per non farla avere più l'epilessia a chi non ce l'ha più deve stare attento ad alcune cose ecco perché ci sono alcune cose che non vanno bene per esempio non puoi condurre una vita sociale in una discoteca ecco andare andare in discoteca il venerdì sera o il sabato sera o la domenica perché non la discoteca al chiuso le luci della discoteca la musica troppo alta con le luci abbaglianti possono causarti di nuovo le crisi e quindi io non non frequento discoteche solo una volta nella mia vita sono andata in una discoteca ma sono uscita fuori non mi sono venute le crisi per fortuna quella volta ma sono uscita fuori che ero stordita ve lo dico stordita un po' addormentata ecco però non ho preso niente in discoteca sono stata attenta ho preso solo una bottiglia d'acqua ma non l'ho bevuta fino a che non sono arrivata a casa io non l'ho bevuta perché l'ho controllata se c'era qualcosa dentro o c'era un buco nella bottiglia non c'era niente per fortuna e come vedete sono ancora viva però quella è stata l'unica volta l'unica volta ma tanti anni fa eh tanti anni fa perché per le persone epilettiche non va bene queste cose come ci sono anche certe poche informazioni anche nelle come si dice nel socializzare perché sembra che gli epilettici devono stare da una parte da soli e basta non valgono niente perché nella vita è così addirittura nel lavoro se una persona non sa che sei epilettica ti comincia a dire devi andare più veloce non è che pensano che chi va piano va sano e va lontano no no ci vuole tutta velocità in questo mondo si va tutto tutti troppo veloci invece no bisogna fare le cose con lentezza si può fare tutto con lentezza nell'arco della giornata piano piano nell'arco della giornata perché io preferisco i lavori online a quelli dentro un'azienda prima cosa perché una disabile epilettica cioè potrebbe portare la macchina dopo passati totte anni mi sembra cinque anni da come ho chiesto una volta un'informazione in una scuola di guida però io non mi fiderei perché non mi fiderei perché l'epilessia lascia delle tracce non si guarisce proprio definitivamente lascia la lentezza lascia il nervosismo l'ansia la depressione gli attacchi di panico soprattutto questi che ti fermano gli attacchi di panico gli attacchi di panico fermano perché non ti fanno fare nulla perché ti fanno tremare tutta e se ti prendessero mentre guidi io non voglio essere un pericolo pubblico in strada a me da piccola mi piaceva a 18 anni prendere la patente dicevo sempre io a 18 anni voglio prendere la patente poi non l'ho presa più perché al diciottesimo compleanno l'ho voluto festeggiare per bene il diciottesimo compleanno ho messo da parte i soldi facendo un piccolo lavoretto per un'amica di famiglia che mi dava un po' di mancetta e e così via giusto per fare qualcosa perché dopo la scuola stando a casa mi vedeva sempre a casa che mi deperivo che mi lamentavo cioè senti fai così 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 e io mi sono messa da parte i soldi per il diciottesimo compleanno e quindi cioè possiamo lo stesso lavorare ci sono anche i lavori online voglio dire perché si evitano il traffico per strada si evita l'inquinamento per strada si evita di fare la benzina perché vedo molti che di chi guida che si lamentano sempre dei costi della benzina elevati allora perché non provare non provare a fare i lavori online senza investimento di soldi così potete aiutare gli epilettici o ex epilettici ad avere anche una vita sociale dentro un social perché il social è questo il fondamento base avere una vita sociale dentro un social come se se fossimo dal vivo capito gente quindi riflettete su questa cosa perché io vedo molto fate essere molto a disagio le persone con l'epilessia vedo molte persone che che hanno l'epilessia che non si raccontano che non hanno coraggio di raccontarsi perché siete proprio voi che non gli fate avere coraggio di raccontarsi perché perché hanno paura che dopo li prendete in giro oppure li isolate che fanno stanno zitti ecco e non va bene non va bene non va per niente bene dovete capire che qui esistiamo tutti esistiamo tutti e poi dovete capire che nei tempi antichi tempi antichi all'impero romano soprattutto c'era Giulio Cesare che soffriva di epilessia guardate che importanza ci aveva era un imperatore romano era quello che comandava così dovete capire questo che nonostante che era epilettico comandava poi vabbè alla fine è stato ucciso dal figlio quindi vabbè però per un po' ha comandato quindi dovete capire questa importanza che anche se siamo malati cognitivi non è detto che non sappiamo parlare non sappiamo ragionare o non sappiamo comandare o non sappiamo fare le cose magari siamo più anche più creativi ecco voglio dire come ha detto una volta il presidente della repubblica in un discorso ha detto che i disabili sono più creativi e c'è bisogno di loro ecco riflettete su queste cose qua ecco riflettete su queste cose qua ciao a tutti grazie a tutti Grazie.